buongiorno cosa mi lasciano queste olimpiadi che sono finite un po come appassionato di sport per un giornalista eccetera eccetera due cose la prima che si è parlato di tutto tranne che di sport o di quasi tutto tranne che di sport per esempio adesso circola un manifesto dove ci sono tutte le facce i volti dei nostri atleti italiani che hanno vinto delle medaglie e mezzo c'è anche la faccia del generale vannacci il quale mi sta pesantemente ma neanche sulle scatole io penso che sia dal mio modesto punto di vista penso che sia un pessimo militare e e penso anche che dica delle scemate le scemate che non si dicevano fosse neanche nel settecento ma il manifesto che circola è ancora più razzista di quello che dice il generale vannacci perché pubblicare un manifesto facendo vedere diciamo la pigmentazione della pelle di chi ha vinto le medaglie e beh per notarla bisogna veramente essere molto molto razzisti quindi io penso che quel manifesto sia razzista diciamo razzista radical chic e vannacci razzista leghista ma sempre razzisti sono e però mi lascia anche una bellissima cosa un personaggio che io ho sempre sempre adorato e secondo me lui è il vero alfiere olimpionico olimpico olimpico di l'italia e lui che per me a mio parere ha vinto la medaglia più importante delle nostre olimpiadi si chiama giulio velasco grande giulio un uomo vero